Dove sei, Froxon? Fede, tre, due, uno No, ma perché? Non lo so Siamo la delle persone più pazienti che si stanno sul pianeta Dove sta Fede? Fede, Fede, non ti vedo, Fede, Fede, non ti vedo, Fede Non ti vedo Ecco, ciao Fede Che si fa sofferti? Per questo, mi sto similando la testa Per questa cosa ti adoro Ho bisogno di altri tipi di testa adesso Ho bisogno di altri tipi di testa adesso Ho bisogno di altri tipi di testa adesso Guarda, 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 guarda No, va bene No, 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 no grazie